Corem Unity, da cosa nasce quest'idea? Nasce dal fatto che siamo in un'epoca caratterizzata dalla sharing economy, quindi condividere le risorse di vario genere, monetarie, di calcolo o di altro tipo, vestiti, scambiare auto, appartamenti. Ecco noi diamo alla gente la possibilità di scambiare potenza di calcolo. Quando noi utilizziamo il computer non sfruttiamo tutta la CPU, quindi stiamo pagando un costo energetico ma senza soffrire realmente delle potenzialità del nostro computer. Quindi siccome da qualche altra parte ci può essere qualcuno che ha bisogno invece di quella potenza di calcolo per fare le proprie elaborazioni e magari non vuole pagare il costo di un data center dedicato o di acquistare un servizio cloud, può aderire alla nostra rete peer-to-peer, quindi entrare nella nostra rete peer-to-peer e mettere a disposizione delle risorse di calcolo del proprio computer inutilizzate in parallelo con le normali attività che quindi magari mentre si scarica un film, mentre si legge la posta, dà a tutti gli altri la possibilità di utilizzare quelle risorse di calcolo e guadagnare una piccola fee. La cosa interessante è che il dispendio energetico viene pienamente compensato dalla fee che noi diamo a disposizione perché qualcun altro pagherà quella fee al fine di poter ottenere le risorse di calcolo, Core Immunity, infinite risorse computazionali dalla gente.